Devi vendere o comprare casa? Segui Casa in TV, l'unica web tv anche sul digitale terrestre. Su Calabria TV, Canale 13, le domeniche alle 20 e 30 e i giovedì alle 23. Tutti i giorni H24 sul portale immobiliare web tv www.caseintv.it Interviste, approfondimenti sul mercato immobiliare calabrese ed annunci immobiliari www.caseintv.it